Oggi siamo a Silla di Sassano da Calzature Spinelli per scoprire insieme a voi tutti gli ultimi arrivi. Un vasto assortimento per uomo, donna e bambino, dallo sportivo all'elegante. Tante offerte su calzature e borse. Non ci sono mai più, no, no, si, puoi me farlo. So put a little love on me, put a little love on me. Put a little love on me, put a little love on me.